Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è giovedì 23 dicembre 2021. Il sole sorgerà tra poco alle 7.38 e tramonterà oggi alle 16.32. Oggi festeggiamo San Giovanni da Cheti. Vediamo la grafica questa mattina. Eccolo San Giovanni. Cheti si trova nella diocesi di Cracovia in Polonia. Giovanni nacque alla fine del XIV secolo. Si laureò all'Università di Cracovia e si fece sacerdote. Si distinse poi per prodigalità in modo particolare verso i poveri. E durante, pensate, durante un suo viaggio a Roma incappò nei ladri che lo spogliarono di tutto quello che aveva. E poi lo lasciarono libero. Ma fatto un po' di percorso di ritorno verso casa, si accorse di avere alcune monete in tasca. Che cosa fece allora? Tornò indietro e consegnò questi soldi ai ladri che lo avevano derubato. Questi ultimi si meravigliarono della prodigalità del sacerdote e gli restituirono tutto. Dopo la sua morte, molti miracoli furono compiuti per sua intercessione. Fu fatto santo da Papa Clemente XIII nel 1767. Quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Giovanni, ancora una volta, perché di Giovanni nel corso dell'anno se ne fasteggiano diversi. Cominciamo la nostra segna stampa a partire dal Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. E vediamo che l'articolo di apertura sul Corriere Adriatico è dedicato, lo abbiamo qui, vediamo subito, è dedicato ad un torneo, ad un evento sportivo che influirà molto sulle presenze turistiche di fine dicembre. Si tratta di un torneo di volley organizzato dalla Virtus, un torneo internazionale a cui parteciperanno addirittura 55 società. E i numeri sono molto molto rappresentativi. L'iniziativa è stata presentata ieri in conferenza stampa. Sono 55 le società rappresentate, espressione di quasi l'intero centro-nord della penisola. In campo 70 squadre, per un totale di 600 atleti, dell'Under 13 all'Under 18 femminile e Under 16 e 17 maschile. A Fano ci saranno 1.100 presenze alberghiere in tre giorni tra Natale e Capodanno. Qui si parla di 1.100 ospiti, in realtà non sono 1.100 arrivi, sono 1.100 presenze. Gli arrivi sono un po' di meno, però insomma sono sempre molto molto significativi, in modo particolare per un periodo di bassa stagione come è quello di dicembre, anche se le festività natalizie influiscono sulla dinamica del turismo. Terme di Carignano, analisi delle acque. Ieri si è mosso qualcosa per la ristrutturazione di questo impianto termale. Si è rifatta viva la proprietà. Ha parlato di recinzione, ha parlato anche di analisi delle acque. Sono tutte operazioni propedeutiche alla riqualificazione di questo impianto termale che, lo dobbiamo dire sempre, costituisce una grande prospettiva per l'economia fanese. E poi vediamo ancora un lutto, purtroppo si è verificato nella giornata di ieri, morto per infarto in ospedale, l'attore fanese Luca Longarini. Aveva, pensate, solo 52 anni. Interprete della compagnia Gaff era stato valorizzato al cinema da Henry Secchiaroli. Ebbene, era uno dei componenti principali della compagnia Gaff di Bellocchi. Aveva partecipato a tante comedie dialettali che si erano rappresentate al Politeama e poi anche alla BCC Arena. Aveva interpretato diversi film della serie Gli Sbancati. E un'altra prova che lo aveva rivelato era stata fornita proprio da Fano TV quando Luca aveva impersonato Donna Rosa, una donna prosperosa, una, no, una fattucchiera, una chiromante, diciamo meglio, con il turbante, il seno prosperoso, eccetera, tutte le sere negli anni 2009, quando intratteneva il pubblico con il gioco dei pacchi. E poi era stato anche il protagonista del commissario Moretta, una serie televisiva in corso di realizzazione che purtroppo si interrompe ora con la morte di Luca. I suoi funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di Bellocchi. Un episodio significativo di come lo sport può degenerare è successo sempre a Fano. Calci e pugni, rissa a fine partita, il giudice dà 19 turni di squalifica, violenze nel calcio a 5 alla trave. Tra la Fanese e Tabeta e Tre Colli, Monte Sicuro, una partita che è letteralmente degenerata. Pensate, 19 giornate di squalifica e quanto ha combinato il giudice sportivo agli protagonisti di questo episodio dequalificante. Due schieramenti a fine gara sono stati colpiti con 5 gare di stop e sono state inflitte ad un tesserato della Tre Colli. Tre le giornate combinate per ciascuno dei due allenatori che dopo la partita hanno tenuto un comportamento offensivo e minaccioso. E ancora, tre turni di squalifica, due calciatori, uno dei Tre Colli e uno delle Tabeta che hanno preso parte alla Zuffa dopo che la gara è degenerata con schiaffi, insomma, spintoni, calci, insomma, una rissa, una baruffa veramente così confusionaria. Un turno di squalifica infine a due calciatori, uno delle Tabeta e uno delle Tre Colli, sanzionati nel rettangolo di gioco. Uno dei due per recidività in ammunizione. E le due società sono state multate, dovranno pagare 700 euro di multa. Insomma, veramente è successo di tutto in questo campo del calcio a 5 alla trave. E poi vediamo che il governo, lo Stato, incrementa il contributo per i carnevali storici di un milione di euro e una fetta andrà anche al carnevale di Fano, sperando che il carnevale di Fano per il 2022 si faccia. Giriamo pagina e vediamo la Val Cesano. Siamo a Pergola. Scorrendo i giorni dell'anno si aiuta il centro Margherita, un atto di solidarietà importante, soprattutto inquadrato nell'atmosfera di Natale. È stato promosso il calendario della solidarietà, a parte una campagna per gli esercizi di Pergola. Natale dunque è anche solidarietà ed è in distribuzione a Pergola dopo il successo ottenuto nel 2020 il nuovo calendario che ha il nobile fine di raccogliere fondi per le esigenze dei servizi sociali del Comune e per il centro Margherita, il centro educativo Margherita che proprio in questi giorni ha festeggiato 25 anni di attività. Siamo anche a Senegaglia, ordini di servizio per il pronto soccorso. Si parlerà anche in altre località del pronto soccorso perché veramente questo è uno dei reparti più in difficoltà in questi giorni quando l'incremento dei positivi al Covid sta veramente superando ogni limite. I rinforzi a Senegaglia arriveranno da altri reparti. dal 29 dicembre saranno precettati i medici di chirurgia, otorino, laringoiatria e ortopedia. Non c'è incremento di personale, c'è solo spostamento di personale da un reparto all'altro. Ovviamente se si rinforza l'uno si viene a mancare l'assistenza nell'altro. Manovra dunque propedeutica all'apertura del reparto Covid a Senegaglia. Sulla pagina di Pesaro vediamo la fotografia del sindaco Matteo Ricci. La DAD ha dichiarato il sindaco è discriminatoria per gli studenti vaccinati in classe con il Green Pass. Allarme e contagi, il sindaco Ricci all'unico le dose o con i test anti-Covid. C'è una intervista appunto che il primo cittadino di Pesaro rilascia per cercare di cambiare la situazione nella didattica a distanza. Insomma non sembra giusto che chi è vaccinato debba soffrire essere penalizzato per coloro che il vaccino ancora non l'hanno preso secondo il sindaco Ricci. Pronto soccorso attesa la tempesta di Natale Gnudi la nave affonda. Oggi ritorna il primario del reparto di pronto soccorso di Marche Nord a elevare la protesta per quanto riguarda una situazione che ogni giorno che passa si sta facendo sempre più difficile per l'accesso agli ospedali di Fano e di Pesaro. Pronto soccorso attesa la tempesta di Natale Gnudi la nave affonda. L'articolo è riportato anche in apertura nella sintesi della prima pagina. La nave affonda. Pronto soccorso il primario ammareggiato per i mancati rinforzi. Non c'è alcuna iniziativa concreta ha dichiarato il medico. La guardia medica chiusa per le feste poi, questo è un altro problema, causa un sovraccarico di lavoro. Il sindaco Ricci dice è inaccettabile tutto questo. Con la guardia medica chiusa un carico extra. Molti pazienti in attesa di ricovero e l'ammarezza del primario per i mancati rinforzi. Si poteva discutere ora il concorso, afferma il medico. E per quanto riguarda le speranze mancate per Marche Nord vediamo questa tabella. Sono state annunciate dall'assessore regionale Saltamartini otto assunzioni di medici dal concorso regionale e cinque di chirurghi. Ma secondo il primario del concorso regionale arriveranno al massimo due medici invece degli otto. E poi erano stati annunciati dall'azienda otto bandi per assunzioni urgenti a termine. In realtà in precedenza non c'è alcun rinforzo al pronto soccorso ed è arrivato da questi avvisi. Vaccini vanno verificate le posizioni di 240 medici. La Federazione Nazionale ha inviato il report all'ordine provinciale. Sarebbero 240 i medici della provincia di Pesaro Urbino in una posizione non regolare secondo quanto evidenziato dal presidente dell'ordine Paolo Maria Battistini. Sono il 10% del totale. Entro lunedì dovremo inviare loro la diffida ha dichiarato il presidente. Ma in realtà il numero potrebbe essere anche inferiore perché ci sono coloro che nel frattempo hanno fatto il vaccino e altri invece che sono in una posizione particolare. Comunque insomma sono ancora tanti. Maxi invaso i sindaci avanti con i progetti. Ebbene ieri si è tenuta l'assemblea dell'ambito territoriale ottimato la Ato Marche Nord dove sono state prese decisioni che riguardano il futuro dell'apprivigionamento idrico. Ebbene una scelta dibattuta tra i sindaci. Vediamo un attimo che cosa si è discusso di che cosa si è parlato. Si è parlato della scelta di proseguire nella riduzione delle perdite d'acqua soprattutto pari circa al 30% di fare pressione sull'Enel per la pulizia degli invasi per investire anche per riorganizzare il sistema quedotistico dell'entroterra ma anche di prendere posizioni sui temi sensibili come l'uso questo è il tema principale l'uso delle acque del Burano e la soluzione di un nuovo invaso. Ancora sui giornali la superstrada Fano Grosseto questa volta ancora l'assessore alle infrastrutture Francesco Balvelli che si è fatto protagonista promotore diciamo di un incontro tra le tre regioni interessati dal passaggio dell'Arteria la Toscana Lumbria e le Marche quattro corsie è patto tra tre regioni l'intesa per pesare sui tavoli romani ovviamente se in tre regioni si presentano sul tavolo del governo le richieste hanno più peso rispetto a quella magari presentata da una regione sola o da una provincia sola per la Fano Grosseto la giunta regionale ha approvato il protocollo da sottoscrivere con Umbria e Toscana è il risultato del lavoro di relazione effettuato dall'assessore Baldelli il quale ha detto si deve partire dal raddoppio del traforo della guenza questo punto strategico che insomma limita il passaggio tra le Marche e l'Umbria costringendo a fare un largo giro verso Gubbio oppure verso Bocca tra Baria e si parla anche della ferrovia questa mattina su questa pagina dedicata al trasporto pubblico del Corriere si va al confronto per l'anello ferroviario ed è sempre Baldelli che insiste per accelerare i collegamenti tra la nostra provincia e Roma eppure per costruire attraverso la linea Orte oppure realizzare il ripristinare anzi il tratto ferroviario da Pergola a Fabriano e quindi da Fossombrone a Pergola magari questa è un po' fantascienza per il momento anche se la cosa sarebbe fattibile largo tre martiri a Soria la rotonda definitiva prioritaria nell'agenda 2022 della giunta pesarese è stato già affidato l'incarico per l'illuminazione l'assessore Belloni vogliamo iniziare i lavori in primavera questo è l'impegno assunto e poi vediamo che la Confesercenti ha un nuovo direttore si chiama Licurgo Alessandro Licurgo che è già vice direttore responsabile della Confesercenti per la zona di Pesaro il suo vice sarà Umberto Baldassarri da tanti anni responsabile per l'associazione di categoria di tutta l'area fiscale appunto ieri le nomine qui vediamo i protagonisti di questi nuovi incarichi insieme a Tiziano Pettinelli che è il responsabile della zona di Fano Mediterranean Beach Games nel bilancio non c'è più traccia l'opposizione compatta incalza il comune Pesaro rischia di perdere l'evento ed è questo anche un evento importante di carattere sportivo ludico che dà a Pesaro molte molte presenze a Vallefoglia sono stati contestati 55 milioni di evasione in sette a processo due escono di scena in realtà l'articolo non si riferisce a Vallefoglia ma si interisce si inserisce a Fano a Fano un po' a Pesaro e un po' anche a Fano perché chi è il protagonista di questa notizia è Fabrizio vi ricordate Fabrizio Giuliani un'attività di abbigliamento che insomma era emessa nel Fanese e negli anni scorsi ebbene questa persona è stata accusata dalla magistratura di Pesaro di evasione mettendo in rete circa 100 operazioni per nascondere una grossa somma al fisco per il caso della società Fabrizio Abbigliamento patteggiano un commercialista ed un prestonome dunque arrivano le prime sentenze per il caso esploso nell'estate del 2018 a Urbino ospedale apre un reparto destinato a degenti covid fino al 10 gennaio saranno 12 posti letto riservati la riorganizzazione è già in atto e vediamo ancora la notizia di Confindustria che aiuta a restaurare la lunetta di Luca della Robbia che è accanto nella chiesa che prospetta il palazzo ducale a Durbino un'opera d'arte di grande importanza e di particolare valore sul resto del Carlino vediamo qui la prima pagina vediamo che si pone in evidenza la situazione critica del pronto soccorso con l'accusa del primario Umberto Gnudi reparti chiusi per curare i Novax e 30 anziani restano in Barella qui la situazione della sanità viene posta con particolare evidenza proprio con particolare diciamo così emergenza per quanto riguarda la soluzione di un problema che sembra non venga non venga la luce il primario Novax io non posso curarli con me litigano ha detto devo affidarli ai colleghi e Gnudi racconta il dramma del pronto soccorso abbiamo 30 persone sulle barelle da giorni in attesa di ricovero ma i reparti sono chiusi non c'è posto non c'è posto in ospedale non c'è posto nei reparti e poi c'è anche il problema della guardia medica che si aggiunge a quella dell'ospedale guardia medica inaccettabile una follia la chiusura e qui ci sono le reazioni del sindaco Ricci e della consigliera regionale Marta Ruggeri dei sanitari del San Salvatore e l'assessore alla sanità Salta Martini che ha detto che per avere questo personale in più per garantire la guardia medica bisogna aspettare la fine della pandemia Assalto ai tamponi fai da te le scorte sono esaurite finiti in diverse farmacie questi tamponi molti li comprano per la famiglia e gli ospiti che riceveranno nel periodo di Natale Pieri che è il responsabile dell'aspes rassicura torneranno presto disponibili quanto costano questi tamponi 10 euro i salivari 5 i nasali che si possono fare direttamente e comodamente a casa ma sono diventati ormai introvabili Luca Pieri presidente di Aspet ha dichiarato da oggi saranno introdotti 700 tamponi fai da te tra le farmacie comunali di Pesaro e Gabice quindi circa 80 farmacie tornano disponibili una richiesta aumentata soprattutto nelle scorse settimane che abbiamo cercato di soddisfare ha dichiarato il presidente per quanto riguarda Fano abbiamo la carica dei mille atleti che anche il resto del Carlino pone in evidenza per quanto riguarda questo grande evento sportivo organizzato dalla Virtus i nostri alberghi in arrivo ben 70 squadre del centro nord ha dichiarato il presidente degli albergatori Luciano Cecchini ieri durante la presentazione di questa iniziativa che coinvolge sì il mondo dello sport ma coinvolge anche quello della ricezione delle strutture ricettive di Fano e del territorio circostante impegnate nel torneo giovanile Fano International Volley Cup 70 squadre del centro nord Italia impegnate in 15 palazzetti dello sport e della provincia dislocati tra Fano Senigaglia Lucrezia Calcinelli Monteporzio San Costanzo e Pesaro quindi una vasta fetta del territorio coinvolta in questa iniziativa e poi abbiamo una protesta diciamo così anzi un intervento critico fatto da due forze politiche di opposizione come il Movimento e 5 Stelle e la lista civica in comune che prendono posizione su una delibera in discussione oggi pomeriggio in Consiglio Comunale a Fano si tratta di una variante al piano regolatore del porto che fa sì che invece di un cantiere di uno stabile addetto alla cantieristica alto 14 metri già previsto dal piano regolatore in sostituzione di questo se ne realizzi un altro molto molto più alto di 24 metri e questo costituisce un impatto ambientale di considerevole importanza l'ambiente del porto sì svolge una funzione di carattere industriale lavorativo ma anche una funzione turistica e lo skyline del porto e del mare di fronte a questo grande complesso che verrà realizzato deturpa un po' l'ambiente e poi non sarebbe giustificato secondo la funzionalità di questa nuova struttura così come hanno messo in evidenza ieri i responsabili di queste due forze politiche evasione fiscale Giuliani rinviato a giudizio è appunto l'articolo che il Carlino fa rispetto a quanto abbiamo detto prima per quanto riguarda questa attività di abbigliamento e poi un intervento del sindaco seri per quanto riguarda la funzione ospedaliera il sindaco interviene a sostegno di una mozione che è stata presentata da Carboni di noi giovani presentata in consiglio comunale se ne parlerà oggi il primo cittadino raccoglie lo spunto e rilancia si diventi un polo universitario creare un rapporto stretto tra l'ospedale Santa Croce da una parte e l'università politecnica delle Marche dall'altra potrebbe essere una opportunità per rilanciare i contenuti di quello che si fa all'interno dell'ospedale l'università la ricerca e l'ospedale per quanto riguarda l'applicazione di quello che dalla ricerca proviene ha fatto bene dice il personale medico la regione ad alzare la soglia degli specializzanti insomma un intervento sulla questione sanitaria che potrebbe smuovere le acque intorno a questa situazione quartiere poderino insieme aiutiamo le famiglie in difficoltà una mobilitazione in questo articolo di fondopagina delle società sportive e delle caritas per aiutare chi si trova in difficoltà i contagi in pochi giorni schizzano al 60% dove la situazione si fa molto grave nei comuni della Val Cesano soprattutto a San Lorenzo in campo e a Fratte Rosa al momento sono queste le località meno esposte ma negli altri comuni il problema si fa ancora più evidente e il rapporto tra contagiati e non inizia a preoccupare in modo pesante la maglia nera spetta a San Costanzo strade più sicure a San Lorenzo in campo vi vediamo il sindaco dell'Onti la regimazione delle acque è stata assicurata grazie ad interventi fatti con marche multiservizi in questo articolo si parla di intervento sull'assetto idrogeologico ma anche per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche nel corso del 2022 a Urbino l'Accademia Raffaello ha rieletto Bravi come presidente la conferma si è avuta per acclamazione nel 2022 ha detto Bravi tanti saranno gli impegni si concludono le celebrazioni del Sanzio e si avviano quelle per il Duca Federico daremo alle stampe ha detto Bravi l'epistolario di Guido Baldo del Monte che è stato uno dei matematici tra i più rilevanti del Rinascimento che si è formato proprio a Palazzo Ducale e che fu maestro anche di Galileo Galilei e poi visite alla Casa Natale e visite in Cassi hanno retto molto bene si spera lo stesso per il flusso turistico per il prossimo anno e siamo in conclusione diamo un'occhiata anche allo sport vediamo che è stata un anno una giornata quella di ieri altalenante per le squadre pesaresi la visse sorride il Fano scivola il Siena battuto 2-1 al Benelli e quindi la visse ha di che da festeggiare la visse si fa un regalone intitola il Corriere Adriatico i Biancorossi stendono anche il Siena al Benelli e decide De Respinis con un sinistro nel finale Marcadella sblocca il risultato nel primo tempo di Favalli la rete del momentaneo pareggio il merito è dei ragazzi ha detto l'allenatore Banchini invece non è andata bene per i Granata del Fano il Fano va a K.O. in trasferta nello scontro Salvezza una rete di guida nel primo tempo condanna i Granati alla sconfitta a Vasto Girardi Vasto Girardi 1 Fano 0 purtroppo non si è ripetuto il risultato delle due prime precedenti delle precedenti partite le ultime due dove il Fano aveva guadagnato 3 punti e con questo concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Fughetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle 7 buona giornata